Una festa attesa, quella che si svolgerà nella giornata di sabato, un momento per la nostra città di grande valore. Festeggiamo addirittura il 55esimo momento di questa festa sociale ed è una festa che sarà davvero sociale a tutto tondo, nel senso che si partirà già con una sfilata che attraverserà la città per arrivare poi al deposito della corona, al monumento dei caduti, ad una cerimonia che si svolgerà proprio nelle sale del Consiglio Comunale e poi il pomeriggio la premiazione dei donatori e delle donatrici. Un'occasione davvero per dare valore a quello che è il significato grande della donazione del sangue. La cosa importante, oltre alla festa, con tantissime iniziative che faremo collaterali, abbiamo questo dato che ci dà soddisfazione, cioè premiamo moltissime donne, molte ragazze che vengono premiate, soprattutto con varie medaglie, quelle che partono dal rame, fino a quella d'argento, e seguono questo trend, sta seguendo da due anni in qua e questo è un fatto molto positivo. Perciò riscopriamo il valore delle donne che donano, che è molto significativo per l'associazione, che non è più maschilista, questo è già un dato importante. Gli eventi che facciamo sono quelli di giovedì, è vero, 27, che siamo a Ponte Lago Scuro, con un tributo ad Alfio Finetti, il noto contautore scomparso, diretto ferrarese. È doveroso da parte nostra, anche perché Alfio Finetti è stato un grande amico dell'Avis, ha fatto perfino l'inno per l'Avis, perciò è giusto che noi diamo questo tributo. Ci sarà sua figlia che canta con il trio, che sono i suoi amici che suonavano insieme a lui. Poi passiamo alla giornata stessa, che si comincia al mattino, ma direi che questo programma è talmente vasto che tutti i donatori hanno avuto, terminerà al pomeriggio alla Livana con le premiazioni. Però il dato importante è che quest'anno al mattino in Consiglio Comunale abbiamo due bellissimi eventi, che sono quelli 25 anni di gemellaggio con due Avis, Avis di Capistrello L'Aquila e Avis di Prata di Pordenone. Lo faremo in Consiglio Comunale, c'è un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione verso l'associazione. Al mattino, nella domenica, andremo a visitare il MEIS, il Museo dell'Ebraismo, ed è una cosa che abbiamo fatto a livello nazionale, questo accordo con il MEIS, per portare i donatori e le donatrici a visitare questo splendido e vero museo. E poi termineremo con tutti i festeggiamenti, sempre giovedì 3, a Ponte Lago Scuro, che daremo l'informazione sul discorso del diabete, la prevenzione del diabete e la donazione del sangue. Perciò è sicuramente una settimana impegnativa, però è una grande soddisfazione per l'Avis.